Buongiorno, Vietnam! Quando siamo partiti non ci sono state reazioni perché la nostra doveva essere la tournée del secolo. Noi eravamo le stars, tutte minorenne, io no. Quando ci portavano con l'elicottero in quelle basi piccinine, i bombardamenti si beccavano anche noi. I morti l'abbiamo visti. Le crepe delle ufficiali ci siamo andate poche volte perché loro non volevano la musica dei neri, assolutamente. Invece i soldati, lì no, lì era tutto bello, si faceva la musica e ci garbava, Rossella impazziva e loro impazzivano. Rossella cantava esageratamente bene. Fra lei e Aretha Franklin? Non so chi era meglio, Chiaretha mi perdoni. Amen, 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 Amen.